E' l'Italia che cambia, l'Italia che pedala, sui sentieri differenti, ecologici e coerenti, quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi. L'Associazione 21 Luglio si chiama così perché il 21 Luglio di alcuni anni fa una bambina ha visto i suoi diritti violati dalle istituzioni. Quindi l'Associazione 21 Luglio combatte a partire dall'infanzia a favore di quelle vittime proprio della discriminazione istituzionale. Quindi un focus chiaramente concentrato sulle comunità Roma, oggi ritenute e definite le comunità più discriminate in Europa e in Italia. Il nostro obiettivo è quello non tanto di dare un'assistenza a queste persone, ma è quella di cambiare il sistema, che è il sistema campi. L'Italia oggi è definita il paese dei campi, cioè il paese che più di tutti ha investito risorse economiche e umane per la creazione di campi, luoghi di segregazione e luoghi di marginalità. Lo facciamo lavorando a vari livelli, interfacciandosi con le istituzioni perché possano cambiare le politiche locali e nazionali, con i media perché possano cambiare il linguaggio, con l'opinione pubblica perché possono avere una percezione diversa e con le comunità Roma. All'interno delle comunità Roma noi attiviamo dei percorsi, percorsi di accesso ai servizi per gli adulti, percorsi con le mamme, percorsi con l'infanzia. I media hanno sicuramente una responsabilità enorme e noi per questo tra le nostre attività come Associazione Ventronuglio facciamo anche corsi di formazione per i media e cerchiamo di lavorare con i giornalisti per una giusta informazione. Abbiamo anche un osservatorio che ogni giorno monitora 126 d'estate a livello nazionale, che è un indicatore su quella che è la responsabilità di ogni giornalista e di ogni addetto ai media nell'informazione nell'amplificare anche frasi di odio da parte di politici o di esponenti politici o di autorità. Noi svolgiamo un grosso lavoro interfacciandoci con le istituzioni proprio per cambiare politica e cambiare approccio nella politica. Svolgiamo quindi una costante azione di advocacy e di difesa dei diritti umani per cercare proprio di spingere e fare pressione sulle varie istituzioni a tutti i livelli, a livello municipale, a livello comunale, regionale, nazionale, perché cambi questo tipo di approccio, perché sulle comunità rom e sinte non siano più applicate delle politiche discriminatorie. Nell'Associazione 21 Luglio lavorano circa 20 persone, molte dedicate all'area di diritti umani, altre che lavorano all'interno delle comunità. Sono figure contrattualizzate grazie ai finanziamenti che riceviamo da fondazioni e da privati in Italia e soprattutto all'estero. L'Associazione 21 Luglio, per mantenere indipendenza ed equità di giudizio, ha fatto la scelta sin dall'inizio di essere totalmente indipendente, rifiutando quindi dallo Statuto di accedere a finanziamenti pubblici italiani. Noi svolgiamo anche un importante lavoro di ricerca, abbiamo un'area addetta a questo, una ricerca di indagine, una ricerca anche che poi può portare a delle denunce. In esempio c'è stato sei mesi prima dello scoppio di Mafia Capitale, quando noi abbiamo presentato un importante rapporto dal titolo Campi Nomadi S.P.A., una ricerca che ha dimostrato tutta la filiera del denaro speso attorno ai campi con nomi e cognoni di quanti guadagnavano attorno a questo sistema. Anche questo è stato motivo di soddisfazione vedere come questa ricerca, utilizzata dagli inquirenti, abbia poi contribuito all'interno della richiesta Mafia Capitale ad individuare i colpevoli e a smantellare questo sistema corruttivo e criminale che si muoveva attorno alla questione Roma. Per noi il campo è l'espressione architettonica della discriminazione istituzionale. I campi sono dei ghetti su base etnica, dove sono concentrate le persone, dove i diritti sono violati, dove la degnità delle persone viene schiacciata. Quando parliamo di Roma e Sinti parliamo di circa 180.000 persone presenti sul territorio nazionale. Si tratta di 23 comunità, Roma, Sinti e Camminanti, di essi 28.000. Quindi una piccola parte è quella ipervisibile, quella che vive nelle cosiddette baraccopoli, nei cosiddetti campi nomadi. Uno dei pregiudizi è che i Roma non vogliono andare in casa. Questo pregiudizio è smentito sia dai numeri, in Italia 150.000 Roma vivono in case ordinarie, lavorano e pagano le tasse, una minima parte, un sesto, vive nei campi, ma è smentito anche dai fatti. Noi abbiamo tante storie da raccontare di ragazzi, famiglie, giovani, mamme, che hanno avuto finalmente l'accesso a una casa, magari edilizia residenziale pubblica, e hanno visto la loro vita cambiare e stanno cambiando la loro vita. Italia che cambia è uno squarcio di luce tra le nubi che ci dice che c'è un paese diverso, un paese che lavora, un paese che spera, un paese ottimista, un paese sul quale dobbiamo puntare a costruire il futuro nostro e quello dei nostri figli. quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.